Ben trovati all'ATG della mobilità, gli eventi in città di questo 25 aprile e le modifiche del trasporto pubblico. Due le iniziative dell'Associazione Nazionale Partigiani, un corteo da Tormarancia sta raggiungendo Porta San Paolo dove è in programma una manifestazione per ricordare le vittime dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Per il corteo sono deviate e limitate 9 linee di bus. Nell'area di Piazzalo Stiense le modifiche interessano 12 linee. Alle termini di Caracalla fino alle 19 seconda giornata del Gran Premio Ciclistico della Liberazione sono deviate 5 linee di bus, 160, 671, 714, 715 e 792. Festa della Liberazione questa mattina anche nel quartiere di Centocelle con il corteo da Piazza delle Camellie avviamo il fetta. Sono deviate 12 linee.